Soldi, soldi, soldi per tre senzio d'alcari. Ci sono tre senzio d'alcari che stanno per fare tanti, tanti soldi. Quali sono questi tre senzio d'alcari che grazie a un transito molto favorevole di pianeti, soprattutto del pianeta Giove, che in una posizione estremamente favorevole, stanno per fare tanti, tanti, tanti soldi. E stiamo parlando del senzio d'alcari dello Scorpione. Per gli amici dello Scorpione è giunto il momento di dire basta alle ristrettezze economiche perché i soldi stanno per scendere copiosi nelle loro tasche. Poi stiamo parlando del senzio d'alcari della bilancia, anche per gli amici della bilancia, è giunto il momento di guadagnare veramente tanto, tanto, tanto denaro. E per finire il senzio d'alcari dei pesci, anche per gli amici dei pesci, tanti, tanti soldi in arrivo. Metti un like, con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti.